Eccoci, siamo al 14 di ottobre, un'altra giornata di lavoro finisce, adesso, anzi adesso ormai non era lavoro, è volontariato, perché praticamente oggi era l'ultimo giorno dell'Unione per quanto riguarda Sannazzaro, quindi ho fatto consiglio unionale alle 19, dove sostanzialmente prima una cosa un po' tecnica, cioè si ratificavano comunque il bilancio, l'equilibrio e quant'altro, che comunque è importante perché avendo ratificato, non ratificato, avendo votato favorevolmente a questo come ultimo provvedimento dell'Unione per quanto riguarda Sannazzaro, perché poi quest'Unione comunque va avanti anche senza Sannazzaro, visto che noi come Sannazzaro siamo usciti, ecco, avendo votato questo provvedimento, anche se noi usciamo come Sannazzaro quest'anno, che adesso siamo nel 2019, non sono pazzo, dico adesso siamo perché non so se pubblicherò questi video e quando li pubblicherò, per cui dico quando è adesso la data di oggi. Quindi noi nel 2019, come Sannazzaro, pur uscendo, avremo da quest'Unione un contributo che va da un minimo di 40.000 euro a un massimo di 60.000, oggi ho chiesto questa cosa, diciamo il responsabile finanziario dell'Unione non era ancora in grado di dirci la cifra esatta, proprio perché dipende da, adesso ve lo spiego tutto, ma dipende da delle cose tecniche, comunque un minimo di 40.000 euro, forse magari fino a 60.000. E ovviamente non vanno tutti a Sannazzaro questi soldi, quindi vengono, diciamo, ripartiti in base al numero di abitanti per i comuni che fino al 31 dicembre 2019 sono ancora dentro l'Unione, che sono Borgo Vercelli, Villata, Olcenengo, Sannazzaro, questi. Spero di non dimenticarmene qualcuno. E quindi insomma abbiamo votato quello, ho fatto un po' di domande su come erano stati spesi alcuni soldi, eccetera. Mi hanno sempre risposto, qui c'è sempre un clima molto cordiale e collaborativo in questa Unione qua. E poi è venuta la parte che, quella sì che era una semplice ratifica, di ratificare, diciamo, la decisione di Sannazzaro di uscire dall'Unione. E lì, che doveva essere una semplice ratifica alla fine, c'è stato un po' di maretta, perché sono partiti tutti se sì, diciamo sì, votiamo a favore. E io ho detto, no, scusatemi, io non la voto sta roba a favore, perché intanto per coerenza, io sono stato l'unico dei miei colleghi in Consiglio Comunale a votare astenuto su questa cosa dell'uscita di Sannazzaro Sesia dall'Unione. Votato astenuto perché? Beh, intanto io avrei votato, con sentimento mio avrei votato contro. Però, se tu sei, io penso, anzi, cerco in tutti i modi di essere sempre leale, diciamo, non in comune, ma in generale, no, come persona. Per cui, se tu sei stato votato comunque con la maggioranza, anche se tu non sei d'accordo, se la tua maggioranza con cui sei votato, con cui sei eletto, insomma, sei nel gruppo, decide una cosa, secondo me, finché stai in maggioranza, non è giusto votare contro, anche se tu quel provvedimento lo steggi con tutto te stesso, perché comunque, se no, esci dal gruppo di maggioranza per coerenza. Quindi io non ho votato contro, anche se avrei voluto votare contro, e ovviamente l'ho detto ai colleghi prima, ho espresso le motivazioni per cui comunque io non ero favorevole a sta cosa. Però, ecco, mi sono astenuto perché io, in tutta onestà, non posso creare un danno erariare al mio comune solo per dar ragione alla maggioranza. Per cui ho detto, ok, io mi astengo, decidete voi questa cosa. Quindi è una decisione vostra, io non la osteggio, quindi non vi voto contro, proprio per quello che dicevo prima. Però, appunto, in tutta franchezza, non mi potete chiedere di creare un danno al comune votando a favore. Quando ho detto sta cosa, i colleghi hanno detto, no, ma guarda che non ci sarà nessun danno, perché noi tanto, fino al 31-12 stiamo dentro, poi ci sarà tutto il tempo di transare degli accordi con la villata, per quanto riguarda la scuola, i servizi scolastici, il pulmino, insomma, tutto quello che il vigile, tutto quello che noi condividiamo con il comune della villata stando in quest'unione. Eh, no, io gli ho detto, ascoltate, ma voi non potete, adesso senza anche lì entrare in... nel dettaglio perché capisco che magari sono cose noiose, però io gli ho detto semplicemente, voi non potete uscire... mettiamo caso che due fanno una società, no? Cioè io faccio una società con un'altra persona. Poi, di punto in bianco, senza una motivazione, senza parlarsi prima, gli dico, quest'è che c'è? Io esco. Arrangiati tu col capitale sociale, arrangiati tu con gli investitori, con il lavoro, problemi tuoi. Però, però, tutti i vantaggi che io avevo stando con te, continua a darmeli. Cioè pulmino gratuito, cioè tutto quello che è il vigile, cioè i buoni pasto a un prezzo basso, eccetera, eccetera. Anche poi, diciamo, i contributi che il Comune di Sanzaro non ha mai versato per il pulmino, e mi arrivano dei messaggi, ok, e quant'altro. E quindi io dicevo, ragazzi, ma se voi uscite in questo modo, come in una società dove tu, diciamo, esci in malo modo, diciamo, in modo molto brutto, col tuo socio, poi non ti puoi aspettare che il tuo socio, in questo caso il Comune di Villata, sia così disponibile come lo era prima per darti tutti i servizi gratuiti che ti dava prima, tutti i servizi, insomma, a prezzi scontati che ti dava prima. E quindi vedete che forse, è il caso che prima di uscire, il sindaco attuale, si parli con l'altro sindaco della Villata, dicano, vabbè, io voglio uscire, ok, però trovino prima una soluzione sui servizi scolastici e quant'altro. Perché se no, guardate, che qui rischiamo che questo qui, poi, questo qui del sindaco di Villata, giustamente, secondo me, giustamente, si contrari e che quindi poi si inneschi tutto un circolo vizioso dove anche voi vi contrariate e quello che ci rimette sono i bambini e comunque le famiglie dei bambini. E i colleghi, no, ma tu, ma cosa capisci tu di queste cose? Ma stai scherzando? Noi abbiamo un buonissimo rapporto con la Villata, per cui queste cose non succederanno e comunque c'è tempo fino al 31-12 per risolvere queste problematiche. Tac! Esattamente due mesi dopo succede quello che avevo detto. Cioè, arriva, le famiglie, vabbè, questa è storia che tutti sanno, quindi le famiglie ricevono, cominciano a ricevere dal comune della Villata degli avvisi dicendo, attenzione, il polmino è nostro, noi lo forniamo gratis al comune di San Nazaro e vedete che voi dovete pagarcelo questo polmino visto che comunque il comune di San Nazaro non vuole più far parte della nostra unione, no? Sono stati aumentati anche i buoni pasto e poi c'è un problema che riguarda indirettamente le famiglie, quindi non direttamente come il costo del polmino che è un problema non da poco, perché adesso noi, in questo momento, mentre vi parlo, noi abbiamo famiglie che ricevono due bollettini, uno dal comune di San Nazaro, l'altro dal comune della Villata, tutti per la stessa cosa. Perché anche lì io ho pensato, noi siamo l'amministrazione che invece di moltiplicare i panni e i pesci, per carità quello non lo possiamo fare, moltiplichiamo i bollettini, perché per lo stesso polmino abbiamo due bollettini, da due amministrazioni diverse, con due prezzi diversi, perché Villata lo fa pagare tipo 140 euro giù di lì e noi lo facciamo pagare 180, così, così uno può scegliere, fa tipo ruota della fortuna, tac, scelgo quello che costa di meno. Vabbè, partiamo gli scherzi, quindi insomma è una situazione assurda che comunque bisogna risolvere, non è pensabile. E i miei colleghi, quindi oltre a non darmi atto, che avevo ragione, ma chi se ne frega che diano atto a me, ma oltre, non ti lascia perdere l'atto, oltre a non comportarsi di conseguenza, cioè dire, vabbè, forse il del boh ha ragione, il consigliere del boh, non gli diamo ragione, perché per carità il consigliere del boh è brutto, cattivo, vabbè, sul brutto magari c'ha ragione, comunque cattivo, ignorante, non capisce niente, e quindi non gli diamo ragione, per carità, ci mancherebbe, non capisco che quando ce l'hai con una persona magari ragioni anche così, perché io provo a mettermi nei panni degli altri. Però, se prendi atto con te stesso, che avevo ragione, ma vuoi agire di conseguenza, ma vuoi fare quello che ti dico? Questa sera noi abbiamo avuto consiglio unionale, e il mio sindaco non si è presentato. Io dico, solo a me sembra strana sta cosa. C'è cavolo, c'è una problematica spaventosa da risolvere, causata principalmente su una cosa personale, perché poi c'è una problematica legata a un comportamento, secondo me, sbagliato della mia giunta, che ha causato un altro comportamento, comunque, di risposta da parte di Villalta. Per cui, una roba del genere si risolve come? Parlandosi, dialogando, trovando una mediazione, no? E quindi, secondo me, era importante che oggi, ultimo consiglio dell'Unione, il mio sindaco fosse presente, perché, lo ripeto sempre, allora nell'Unione funziona così. Per quanto riguarda San Nazaro, siamo in tre. C'è il sindaco, che è in giunta, quindi fa parte del ristretto numero di amministratori, che decide, come si muove l'Unione, insomma, cosa deve fare e quant'altro. E poi c'è il consiglio dell'Unione, a cui faccio parte io, per quanto riguarda la maggioranza, e il consigliere collega Malinverni, per quanto riguarda la minoranza, che sostanzialmente, fa un'opera di coordinamento e controllo di quello che è appunto la giunta dell'Unione. Quindi, tu, sindaco di San Nazaro, sei in unione, sei in giunta unionale, cioè, laddove si decide queste cose, c'è questa problematica e non vieni. Gli ho chiesto di venire, gli ho chiesto anche, e lui mi ha risposto no, la motivazione è, ho impegni. Vabbè, hai impegni. Allora, sicuramente, vabbè, se uno ha impegni, hai impegni, anch'io ho impegni a volte, per carità, però cavolo, è sei mesi che non ti fai vedere in Unione, cioè, allora, tu puoi avere impegni un consiglio, due consigli, ma se tutti i consigli, da mesi a questa parte, tu mi dici che hai impegni, tra l'altro, vengono fatti, cioè, vedete, tutto buio, ci vengono fatti anche in orari in cui, insomma, uno magari di lavorare ha già finito, mi viene da pensare che, che quella degli impegni sia una balla, cioè, adesso io non, eh, quindi, ehm, no, mi guardano, mi guardano persone e dico, ma quello parla da solo, d'altronde, sono un politico, quindi che sia pazzo ci sta, ehm, seppur locale, eh, e quindi, insomma, questo, secondo me, è un comportamento grave da, da parte del mio signore, sindaco attuale, ma non verso di me, o verso il sindaco di Villata, ma verso i cittadini di San Nazaro, perché, comunque, allora, si è creata questa problematica, io non voglio dire che è colpa tua, si è creata, ok, ma cavolo, ma tu ci hai parlato dieci anni con questa persona, che è il sindaco di Villata, ma vuoi parlargli per cercare di risolvere questa cosa qua, invece di dire che hai impegni, invece di, cioè, eh, cioè, non lo so, e io poi quando glielo dico, la risposta, ah, ecco, poi, allora, io gli ho chiesto al mio sindaco per favore di venire, lui mi ha risposto no, non posso, e allora, vabbè, intanto gli ho detto che secondo me sbagliava, che comunque doveva trovare il modo di venire, eccetera, poi gli ho detto, vabbè, allora, se tu non vuoi venire, eh, visto che io comunque sono un rappresentante eletto, eh, di maggioranza, per andare nell'unione, quindi devo fare, il mio dovere è fare gli interessi di San Nazaro, e in questo momento le famiglie, i bambini di San Nazaro hanno un problema, allora, dimmi, troviamoci assieme, parliamone assieme, anche al telefono, per fare in modo di trovare una soluzione assieme, così tu mi dai le direttive, e troviamo una soluzione da proporre al sindaco di Villata, per risolvere la situazione. La risposta del mio sindaco, e anche del vice sindaco, Fizzotti, è stata, ah, vabbè, ma di questa cosa se ne occupa un'altra tua collega, quindi, cosa c'entri tu? E dico, ma scusate, ma se sono, cioè, io sono rappresentante del Consiglio in Unione, cosa volete che faccia? Mi giri dall'altra parte? Cioè, guardo di là? Ah, vabbè, i bambini, gli dicono che, i bambini di San Nazaro, che se le famiglie non pagano, li lasciano a piedi, vabbè, ma che problema c'è? Io guardo dall'altra parte, eh, vabbè, ma le famiglie di San Nazaro ricevono due bollettini, vabbè, ma che problema c'è? Se ne occupa la collega, non è un problema mio, io guardo dall'altra parte, cioè, ma, non lo so, ma chiunque, chiunque farebbe una cosa del genere? Non so. Io, io rimango basito. Rimango basito per la reazione, perché poi, queste due persone, l'attuale sindaco, l'attuale vice sindaco, se la prendono con me, perché dicono che io non rispetto la maggioranza, perché io dico che sono sempre brutto, cattivo, eccetera, ma cosa dovrei fare? Cioè, allora, voi non rispetto, avete creato il casino, nonostante vi avevo detto, guardate, state attenti, non fate così, gli avevo ovviamente suggerito un'alternativa, no? Per fare in modo che non fosse così. Hanno fatto quello che volevano loro, il casino si è creato, non riescono a risolverlo, perché ormai sta cosa, a oggi, mentre stiamo facendo questo video, dura da diversi mesi, e cosa devo fare? Mi sembra logico che, siccome sono stato eletto, cercare di dare il mio contributo per dare una mano, no? per risolvere la cosa? La risposta è, no, facciamo noi, però non facciamo niente, però se ne occupa la tua collega, e tu non devi fare niente, perché sennò estrometti la tua collega. Ma che risposta è? Allora, non so, io sono eletto, lavoriamo assieme per risolvere la cosa, no? No, no, non si può fare, facciamo tutto noi. E vabbè, allora gli ho detto, gli ho scritto, nel gruppo, noi abbiamo un gruppo tutti assieme, gli ho scritto, vabbè, allora, sai com'è? io faccio quello che riesco, e lo faccio da solo, perché come al solito, qui io sono sempre lasciato da solo, mi devo arrangiare da solo, c'è qualsiasi cosa, in unione, anche lì poi gli ho detto, ma io, una domanda, no, che mi è venuta in mente, ma come consigliere unionale, ma io sono il consigliere della minoranza, della maggioranza o di me stesso, perché anche lì, a me non sembra normale, che un consigliere comunale di maggioranza, vada a una riunione, in unione, senza aver parlato prima col sindaco, senza che questo gli dica, guarda che noi vogliamo, la posizione dell'amministrazione è questa, vogliamo fare questo, vabbè, tutto così qui, e quindi insomma, io ho parlato col sindaco Bullano, di mia iniziativa, e sono riuscito a convincerlo, a intervenire su questa situazione dei bambini, che veramente, insomma, bisogna risolverla, perché non è accettabile una roba del genere, purtroppo, essendo noi attualmente ancora in unione, e quindi finché andiamo in unione, passa tutto tramite il mio sindaco di San Azzaro, che ha già detto che lui con me, non ritiene di, insomma, non ritiene neanche di lavorare, praticamente, quindi, non si può fare nulla, finché stiamo in unione, e quindi, purtroppo, saranno provvedimenti che verranno presi, dall'anno scolastico, 2020-2021, però il sindaco Bullano mi ha assicurato, ne abbiamo parlato a lungo, e poi vi farò vedere il video, insomma, il riassunto, della cosa, che come Villata prenderemo, prenderanno, perché io non sono eletto a Villata, prenderanno dei provvedimenti per venire incontro alle famiglie, quindi, per quanto riguarda il pulmino, sto parlando del pulmino scolastico, quindi, sostanzialmente, i soldi che la famiglia paga per usufruire del pulmino della Villata, che li porta alla scuola della Villata, e prenderanno questi provvedimenti con la ratio del numero dei figli, quindi verranno, diciamo, avvantaggiati le famiglie numerose con chi ha più di un figlio, e quindi si è deciso di fare questo, adesso poi, ovviamente, essendo io non un consigliere di Villata, non mi sono permesso per rispetto di entrare proprio nel merito, però mi ha detto delle cose che adesso non mi sembra corretto dire qua, perché sono cose loro che deciderà il sindaco di Villata in autonomia, ma mi sembrano delle cose molto positive da quello di cui abbiamo parlato, e che oggettivamente serviranno a dare ristoro alle famiglie poi più deboli, che magari hanno più di un figlio, che magari fanno fatica con le spese, che quindi hanno più bisogno dell'aiuto di un'amministrazione per queste spese qua. Quindi questa è una cosa che spero, almeno da quello che mi ha detto il sindaco Bullano, abbiamo portato a casa, e io bene o male mi fido di Bullano, perché fino adesso è sempre stato di parola tutto quello che mi ha promesso, l'ho sempre ottenuto, dal vigile che abbiamo avuto pagato per l'80% con i fondi che arrivavano dall'Unione. Avremmo fatto probabilmente anche gli autovelox, o meglio non gli autovelox, dei velox mobili, che è una cosa che ci teniamo per la sicurezza stradale, se non fossimo saltati dall'Unione. Insomma, diverse cose le abbiamo fatte, quindi io sono fiducioso che effettivamente, purtroppo ci saranno questi mesi in cui le famiglie ormai hanno pagato, però dal 2020-2021 io credo che la situazione, essendo gestita da Villata e non da noi, si risolverà positivamente per le famiglie di San Nazaro. Sono dilungato, quindi buonanotte, adesso andiamo a casa, mangio, cucino, mangio e a dormire che domani si lavora. Ciao ciao!